Abbiamo intitolato questo spazio di spunti e spuntini dentro le notizie perché commentiamo le notizie pubblicate quest'oggi sui giornali e in particolare la Nazione Cronaca di Arezzo. Federico Dascoli è il capo servizio della Nazione di Arezzo. Grazie ancora Federico per aver accettato il nostro invito. Avete dato spazio in particolare alla politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Che cosa bolle in pentola esattamente? Beh esattamente è un bel avverbio. Buongiorno Luca e buongiorno a tutti. Nel senso che ancora di preciso non si sa nemmeno quando andiamo a votare e non si sa di preciso se ci sarà il terzo mandato. Sono due ipotesi che facciamo nel giornale lavorando su tutti quei sindaci che avendo compreso che evidentemente il terzo mandato ci sarà si potrebbero ricandidare come noto a giugno probabilmente tra l'8 e il 10 giugno. Insomma in due giorni ancora da decidere si vota come si sa in 26 comuni su 36 della provincia quindi è quasi il 40% degli abitanti di questa provincia al 70% dei comuni e ci sono diverse sfide interessanti a partire da quella di Cortona che è il comune più importante che va al voto ma anche San Giovanni Valdarno e insomma tutti gli altri dietro. Noi abbiamo giocato un po' abbiamo fatto il semaforo delle candidature quelle già sicure, quelle probabili e quelle che invece come dire si fermano un turno. Avete raccolto anche delle testimonianze, delle indicazioni per esempio Cacioli sindaco di Castelfranco Pian Disco ha detto di avere esaurito il suo compito e quindi in ogni caso non si ricandiderà. Mentre invece Carlo Toni di Poppi ha detto che sarebbe disposto ad accettare anche un terzo mandato. Sì esatto abbiamo messo a confronto due sindaci che possono andare al terzo mandato, Cacioli ci ha detto che vuole finire il lavoro portato avanti, scusami Cacioli ha detto che ha concluso, ha raggiunto tutti gli obiettivi nei dieci anni del suo mandato mentre Toni di Poppi ha detto che punta ad andare avanti per concludere ancora dei progetti puntando sulla fiducia dei cittadini. Abbiamo voluto raccontare queste due storie diametralmente opposte per dire come questo terzo mandato può cambiare le carte in tavola. Ecco per quanto riguarda Toni, lo ricordiamo, è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Nella prima pagina della Nazione ci sono anche dei riferimenti all'andamento dei saldi, saldo anomalo. Questo è un titolo, avete voluto giocare un po' con questo titolo? Sì abbiamo giocato un po' col caldo anomalo che è un po' uno dei temi caldi di questi mesi, di questi anni e diciamo nell'andamento dei saldi i negozianti, i commercio in particolare denunciano appunto che le temperature più alte rispetto alla media di questi giorni non favoriscono le vendite. Quindi abbiamo giocato sul saldo anomalo, col caldo anomalo. Più in generale abbiamo fatto un lavoro sui costi, sui prezzi denotando che c'è un aumento dei costi. Abbiamo anche la denuncia di una mamma rappresentante delle menze insomma che racconta che non solo nelle menze non si mangia poi così bene ma insomma i costi sono abbastanza importanti. Abbiamo fatto i conti in tasca a una mamma con due figli insomma è una cifra abbastanza importante quella che devono sborsare. Che devono sborsare. Poi Federico ci sono anche riferimenti al Saracino e anche alla nostra emittente perché Parnetti il volto nuovo della giostra alla tv. Sì, beh insomma abbiamo voluto segnalare la presenza su Teletruria insomma di questo personaggio abbastanza conosciuto Roberto Parnetti che insomma sarà la vostra seconda voce. L'abbiamo intervistato, lui è un quartierista di Porta Santo Spirito ma insomma ha scritto anche libri sulla giostra e insomma ha fatto esperienze anche nelle quintane e nei pali fuori da Rezzo. Quindi insomma lui ci ha raccontato che vuole portare la sua esperienza al servizio della vostra emittente. Della nostra emittente. Ci sono anche altri riferimenti ovviamente alla cronaca. Avete parlato anche di economia degli spiragli per la FIMER. Crescono gli affari a primavera all'asta pubblica. Questa è una telenovela praticamente diventata perché non si riesce a vedere esattamente una via di uscita di questa situazione che coinvolge, lo ricordiamo, ma non soltanto le famiglie che agiscono direttamente nell'azienda. Sono circa 400 con l'indotto le famiglie, le persone coinvolte in questa crisi. Sono tre anni se non sbaglio che va avanti la questione della FIMER. Adesso c'è l'amministrazione straordinaria e nell'incontro che c'è stato ieri sembra che ci siano degli spiragli positivi, sia dal punto di vista degli ordinativi, delle commesse che arrivano a questa importante azienda della nostra provincia, sia per quanto riguarda l'asta pubblica e per passare da un'amministrazione straordinaria a una proprietà vera e propria. Noi abbiamo, non dico azzardato, ma abbiamo immaginato che primavera, se continuano a andar bene le cose alla FIMER, possa essere il momento giusto per aprire questa asta. Vediamo se sarà così. Federico, voi avete approfondito anche un altro aspetto, anche nelle edizioni dei giorni passati, quello della sicurezza, prendendo come spunto quanto è accaduto a Sansepolcro, per esempio, all'inizio della settimana. Un fatto, direi, inquietante anche nel suo svolgimento. Insomma, una persona che è partita, un giovane, che è partito in pratica da una parte del centro storico e ha praticamente travolto, divelto tutto quello che trovava. Ci sono state anche delle prese di posizione. La Nazione si è occupata, ha seguito molto questo aspetto, no? Sì, perché alla fine, Luca, è un episodio singolo, perché è una sola persona che si comporta in una certa maniera, ma da solo riesce a fare veramente danni importanti, perché le foto del centro di Sansepolcro sembra sia passata una mandria di cinghiali, invece è stata semplicemente una persona. Il sindaco ha chiesto il daspo urbano e, come dire, in qualche maniera se l'è presa con i commercianti, dicendo stati attenti a quello che date da bere. Insomma, ne è nata una polemica con i commercianti che dicono che questi episodi avvengono alle 6 la mattina, quando loro sono già chiusi, evidentemente sono legati alla responsabilità dei singoli. È vero comunque che si tratta di una persona minorenne, quindi, insomma, è abbastanza giovane, insomma, ecco, vediamo queste immagini che sono abbastanza inquietanti, insomma, di quello che è riuscito a fare nel giro di pochi minuti, però, insomma, ecco, ripeto, prendiamo questo episodio singolo, non facciamo di tutta l'erba un fascio, non tutti i giovani sono così, però è chiaro che, insomma, questa malamovida, questa attenzione che richiede il sindaco, questa responsabilità che è dovuta anche ai commercianti, credo che poi sia una posizione anche condivisibile. Federico, tu sovente sei ospite anche di Sottorete, la nostra trasmissione calcistica del lunedì, non possiamo non chiederti qualcosa su queste ultime operazioni di mercato dell'Arezzo, un Arezzo che si sta rafforzando, vale a dire l'impressione che sia una squadra che stia acquistando quel peso che all'inizio del campionato forse non aveva. Sì, dal punto di vista del mercato sono stati fatti due colpi sicuramente importanti, io dico, insisto, sul dire che l'attacco in questo momento con la squalifica di Gucci e con l'infortunio di Crisafi manca di qualcosa, quindi servirebbe assolutamente un colpo in attacco, immagino che il 14 gennaio sia un po' presto per fare un'operazione che sicuramente è più onerosa delle altre, però anche prendendo un giovane, anche un giocatore non di grandi caratteristiche, ma un giovane serve appunto numericamente, tanto che l'Arezzo domenica con il Pescara giocherà probabilmente con quell'espressione spagnola, falso nuove, cioè con Pattarello che farà, starà centrale, quindi insomma un giocatore assolutamente adattato che nei precedenti, come dire, in cui Pattarello è stato utilizzato in quella posizione, non hanno dato grandissimi risultati, quindi insomma credo che il mercato va bene, insomma però di qui al 31 serve anche una punta, credo importante. Forse all'inizio del campionato tutti si aspettavano qualcosa di più da Kozak, magari anche a partite in corso, perché il giocatore aveva una notevolissima esperienza. Io dico che con Kozak si sono venduti anche dei abbonamenti, forse giustamente, perché io per primo guardando il curriculum di questo giocatore potevo vedere un giocatore che faceva cambiare in corsa. Invece purtroppo si è realizzato un po' quello che solo pochi anni fa è successo con Cerci, cioè un giocatore con un grande passato che poi alla prova dei fatti in Serie C non è riuscito a rendere, per cosa che credo che ci siano anche questioni strettamente fisiche, insomma ha giocato pochissimo e non ha lasciato assolutamente il segno, mi pare che sia già una meteora che sta scomparendo, sta cercando un'altra destinazione. Si sta assistendo in questo periodo Federico e il giornale anche lo ha segnalato, ha una rinascita, una rifioritura anche di altri sport, penso per esempio alla pallacanestro, la stessa pallavolo che sta riacquistando diverse posizioni, quindi l'impressione è che il momento sia positivo. Si, il momento è positivo, è chiaro che Arezzo come città ma anche la sua provincia non ha una grande storia negli sport di squadra, lo scorso un paio di anni fa quando è stata promossa in A1 il basket femminile di San Giovanni, insomma abbiamo cercato di raccontare quali erano stati gli sport di squadra della provincia di Arezzo che hanno frequentato la massima serie e come dire, gli sport di squadra c'era appunto il basket femminile e l'Arezzo femminile di calcio. Vedo la SBA che sta facendo bene, è chiaro che anche la SBA è in una categoria inferiore quando si parla di altri sport, non li chiamo sport minori che sono sport bellissimi come il basket, assolutamente divertenti, io poi quando c'è un pallone mi diverto di più, che però hanno bisogno ancora di crescere un po' per riuscire comunque a essere un traino a livello nazionale. È chiaro che qui abbiamo sempre avuto il calcio, anche lì ci chiamiamo Arezzo ma ci manca quella letterina che si chiama Serie A e vediamo se questa società che in questo momento sta facendo bene può essere l'occasione giusta per una crescita a lunga distanza. Federico, la nazione quotidiano storico esiste da sempre nel nostro territorio, io personalmente sono legato anche a quel giornale, anche alla figura del tuo babbo il quale mi volle lì ormai moltissimi anni fa. Avete dato sempre più spazio, state dando sempre più spazio al territorio nelle varie sfaccettature se vogliamo, ho visto che raccontate anche storie quindi è un modo per essere ulteriormente vicino. Cerchiamo di andare al di là della cronaca, cerchiamo di analizzarla, di capire, di andare al di là della semplice notizia che come sappiamo noi abbiamo naturalmente non solo la carta ma il nostro sito online, spesso voglio dire quello che noi raccontiamo il giorno dopo c'è già il giorno prima. Noi il giorno dopo dobbiamo impegnarci ad approfondire alcuni temi, a cercare di capire quali sono le esigenze della città, i problemi più sentiti dalla popolazione cercando di andare al di là delle comunicazioni ufficiali e quindi insomma questo è un po' il nostro ruolo, lo facciamo da tempo e continueremo a farlo. Noi diamo la notizia e voi la approfondite negli spazi a vostra disposizione. Esatto, esatto. Grazie a Federico Dascoli col quale poi avremo la possibilità di incontrarci di nuovo per approfondire le notizie più significative della settimana, linea che torna alla regia per un nuovo suggerimento pubblicitario. Grazie.